buongiorno amici di super j e buona pasquetta a tutti voi tempo che continua ad essere parzialmente disturbato al centro sud a causa dell'insistere di una circolazione depressionaria in lento spostamento verso l'europa orientale mentre in quella occidentale avanza un promontore anticiclonico che potrebbe diventare protagonista nei prossimi giorni anche in italia per oggi tempo che continuerà ad essere disturbato al sud in graduale miglioramento nelle regioni centrali e pienamente soleggiato al nord in abruzzo tempo ancora incerto al mattino in particolar modo nel sud della regione dove non si esclude anche qualche isolato scroscio di pioggia ma il tempo andrà rapidamente migliorando a partire dall'aquilano e dal terramano la ventilazione sarà moderata a tratti forte nelle aree costiere di tramontana ed il mare mosso le temperature sono previste in leggero aumento nei valori massimi compresi tra 9 e 14 gradi e minime della prossima notte tra 0 e 8 gradi per il meteo è tutto appuntamento a domani mattina